Ora il personaggio che vado a presentarvi è un po' bizzarro, ma è diventato una maschera. Si chiama Fortunello, per molti rappresenta il testamento intellettuale di Ettore Petrolini. Sono un uomo grazioso e bello, sono Fortunello, sono un uomo di Tesano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigibile, sono un uomo che va dal culmine, sono un parafulmine, sono un uomo senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, sono il figlio naturale, sono un uomo della riserva, sono il figlio della serva, sono un uomo senza boria, il caffè con la cicoria, sono un uomo ginegetico, sono un colpa popetico, sono un uomo di Istanbul, sono un paraful. Se fossi una cocotte, passeggere la notte, se fossi una ciocciara, la venderei più cara, se fossi più simpatico sarei meno antipatico, se fossi più antipatico sarei meno simpatico, sono un uomo che vede un gramma, sono un radio telegramma, sono un uomo condiscendente, sono un accidente, sono un uomo della Lega e chi se ne frega, sono un uomo dei più tretini, sono Petrolini.